Vada, Niki! Andiamo, Niki, forza! Salve! Una pizza, per favore! Ok! Oh, è l'ora della pizza! Evviva! L'hanno ordinato la pizza! Dobbiamo prenderla! Adesso! Cosa è successa alla mia pizza? Ehi, chi ha mangiato la mia pizza? Portatemi un'altra! Mmm, buona! Vacci la pizza! No! È la mia pizza! Yummy! Ah, la mia pizza! Oh! Ciao, mamma! Ciao, Niki! Come stai? Sto bene! Oh, che bello! E' della pizza per noi? Cosa? No! No! No, è la mia pizza! Ciao, ciao, mamma! Dammi il cinque! Ciao, ciao! Oh, di nuovo? È la mia pizza! Oh, ragazzi! Salve! Voglio una pizza! Ok! Chris! Ehi, Chris! È la mia pizza! Oh, no! Oh, ho del succo! Oh, un bicchiere! Fresco! Ehi, è il mio succo! Scusa, mamma! Ehi, vicini! Cosa? Cosa? Perché avete preso il mio cibo? Devi mangiare il cibo sano! Sì! Ok! Il cibo sano è...